Per la sezione Economia il premio d'orso va ad Amedeo Lepore. Amedeo Lepore è professore ordinario di storia economica presso il Dipartimento di Economia della Università della Campania Luigi Van Vitelli e docente presso il Dipartimento di Impresa e Management della Luis Guido Carli di Roma dove è titolare dell'insegnamento di storia dell'economia e dell'impresa. Ha insegnato e svolto attività di ricerca in diverse università, centri di ricerca e archivi dell'Europa, dell'Asia e dell'America Latina. Ha ricoperto l'incarico di assessore alle attività produttive della Regione Campania e componente di numerose organizzazioni e comitati scientifici, Svimez, Accademia Pontaniana, Società Napoletana di Storia Patria, Corte dei Conti, Animi. Presiede la giudia del premio di meridionalistica Stelle d'oro, Mezzogiorno e l'associazione Noi, Napoli Open Innovation. Ha fondato insieme ad altri la fondazione Merita per lo sviluppo del Mezzogiorno. Ha scritto oltre un centinaio di lavori scientifici, saggi e libri in Italia e all'estero su temi riguardanti la storia economica italiana e spagnola, l'evoluzione del commercio, della contabilità e del marketing, l'analisi del pensiero economico. Si segnale in particolare l'intensa attività per la sistemazione degli archivi della Cassa del Mezzogiorno e la sua recente opera, La Cassa per il Mezzogiorno e la Banca Mondiale, un modello per lo sviluppo economico italiano. I suoi interessi culturali, meglio ancora, la sua energia culturale, riguardano la storia dell'economia euroatlantica, il processo di globalizzazione nei suoi vari aspetti, l'evoluzione dell'impresa, la storia del dualismo economico italiano, l'economia delle regioni del Mezzogiorno d'Italia. Saggista di ampio respiro, il professor Lepore ha espresso ed esprime, fornendo un contributo importante alla conoscenza, la sua forza culturale non solo negli studi storici, ma partecipando attivamente al dibattito sui potenziali percorsi dello sviluppo economico e sociale. Attento alla conservazione della memoria, da anni conduce una battaglia culturale per la messa in sicurezza e sistemazione degli attivi storici, in particolare quelli che riguardano storie dell'impresa. Alle qualità di professionista della storia e dell'economia, Amedeo Lepore aggiunge qualità di pubblicista sui più importanti temi che interessano non solo temi dello sviluppo del nostro Paese e del Mezzogiorno, ma anche temi geopolitici riguardanti l'ordine mondiale e i processi di pacificazione. Consegna il premio il professor De Rossi. Dopo questa motivazione posso solo deludervi, fare bene a non parlare, ma consentitemi di ringraziare sentitamente la giuria del premio, l'Associazione Internazionale Guido d'Orso per questo riconoscimento che mi onora e mi rende emozionato. Però io credo che il tratto più significativo di questa giornata sia la passione civile, che anima l'Associazione Guido d'Orso e che ha animato il nostro protagonista. Diceva di lui Rossi Doria che la sua passione serviva ad avviare un processo democratico per superare le insufficienze del Mezzogiorno e Guido d'Orso, meridionalista, politico, studioso, antifascista, era una personalità dalle larghe vedute che puntava a un rinnovamento del Sud dicendo che non occorreva solamente rimuovere gli ostacoli istituzionali, ma anche impedire che attraverso le crisi sopravvivano le premesse storico-economiche che costituiscono l'essenza delle questioni meridionali. Orbene il Mezzogiorno, la sua storia, non è sempre stata una storia di ritardi, di arretratezze. Il Mezzogiorno in 150 anni è andato molto avanti. Il problema vero del divario del dualismo è che non ha avuto un ritmo di crescita pari a quello del resto del paese e dell'Europa. C'è stata un'epoca importante di convergenza e di crescita del Mezzogiorno, quella del miracolo economico italiano, in cui il Sud ha contribuito allo sviluppo del paese ed è cresciuto più delle altre aree d'Italia. E Guido d'Orso è stato un protagonista di queste basi, di queste fondamenta. Giorgio Napolitano, ricevendo il premio d'Orso nel 1998, diceva che dopo 50 anni c'è ancora da imparare da Guido d'Orso e soprattutto occorre considerare che nello sviluppo del Mezzogiorno non ci sono soltanto le analisi economiche, ma anche i fatti di storia e cultura. Ebbene Guido d'Orso, se lo dovessimo reinterpretare oggi, ci ha lasciato una forte lezione di tipo morale, di rigore, di coerenza e di coraggio, ma non solo, anche di storia e di cultura. Non è una personalità che si vorrà chiudere in una sola definizione, ma se la dovessimo usare dovremmo dire che è stato un liberale e un repubblicano intransigente, illuminista, che si è mosso per far sì che la politica fosse una nobile arte, non trasformista. Un meridionale eterodosso, diceva che quando scrisse la rivoluzione meridionale, che era eretico a tutti. Eppure, in questa posizione del tutto singolare, è stato un ponte tra il meridionalismo classico di Fortunato e Salvemini e il meridionalismo di Saraceno e di tutti coloro i quali hanno creato quella stagione straordinaria dell'intervento straordinario. Era un autonomista, ma come è stato ricordato in precedenza guardava uno Stato unitario, fortemente intrecciato nelle qualità e nelle caratteristiche del Nord e del Sud. Non era né federalista né regionalista come tale, ma guardava all'autonomia come un sistema di lotta politico per cambiare le condizioni del Mezzogiorno, come gli avevano insegnato Cattaneo e Salvemini. E guardava alle classi dirigenti, al loro rinnovamento, alle responsabilità dell'elite come un elemento fondamentale per creare un paese nuovo. Cento uomini d'acciaio. Non era un richiamo astratto. Si realizzò con la Cassa per il Mezzogiorno, con quella struttura tecnica, con le competenze, le conoscenze che rafforzarono la politica di quell'epoca. E soprattutto Guido Dorso è stato l'interprete di un nuovo paradigma, un termine che viene utilizzato molto in questo periodo. All'epoca era difficile. Tra le due guerre, di fronte alla caduta dello Stato liberale e alla mancata soluzione della questione meridionale, altro che risolta, era complicato indicare una strada. E gliela indicò in nuove alleanze sociali, scompaginando quelle precedenti attraverso una distruzione creatrice del tutto innovativa. Questa era la rivoluzione meridionale. E una nuova politica democratica, non trasformista. E un nuovo orizzonte economico, non protezionista, liberale, ma che puntava su un paese e un mezzogiorno produttivo, di tipo agrario e industriale. Una sintesi tra la sensibilità economica e la sensibilità etico-politica dello storicismo liberale. Insomma, Guido Dorso non era un'anima morta. Era un uomo che si muoveva in controtendenza, che forse anticipava i tempi, che ha mostrato una grande capacità di indignarsi e reagire. Una grande passione civile. Io non sono un economista, sono uno storico economico e rivendico questa appartenenza. È una disciplina piccola, ma che ha una metodologia molto avanzata e sono onorato veramente di questo riconoscimento e di questo premio. E voglio concludere utilizzando proprio le parole d'orso che possano essere di buon auspicio per tutti quanti noi e per il nostro paese. Occorre che i giovani, i quali hanno già dato qualche segno di non voler seguire le linee di sviluppo della tradizione dei padri, escano dallo stato di fatalismo che incombe sulle anime meridionali per dimostrare che le elite del Sud non sono costituite soltanto da speculatori geniali, capaci di anticipare di secoli le grandi scoperte del pensiero umano, ma sono costituite anche da uomini di azione, capaci altresì di compiere il miracolo di svegliare un popolo di morti. Certo, il cammino è lungo e pieno di ostacoli, ma sembra che sia già affiorata una generazione capace di spezzare gli ultimi ceppi del feudalismo. Incomincia anche per il mezzogiorno l'evo moderno che sia di augurio, di buon auspicio per tutti noi e per le nuove generazioni.